Conte all'Inter, ecco il primo colpo, accordo raggiunto. Conte e il possibile ritorno all'Inter, ecco il primo colpo. Accordo già raggiunto per la stagione 2023-2024. Si profilano mesi piuttosto caldi anche sul fronte panchine in vista del calciomercato estivo. Il nome che potrà far saltare il banco in Serie A è quello di Antonio Conte. Come noto, il tecnico italiano è tornato libero dopo la separazione anticipata con il Tottenham. L'allenatore è stato già accostato alle principali big italiane, dal possibile ritorno all'Inter o alla Juventus a Roma e Milan. Conte senza panchina fa sempre gola in Serie A e nei prossimi mesi l'ex Spurs è sicuramente destinato a far parlare di sé. Decisivi saranno i risultati finali delle big, in caso di flop e mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infatti, il tecnico pugliese tornerebbe con forza il primo nome sul mercato delle panchine. In prima fila è segnalata proprio l'Inter. Simone Inzaghi continua a far sognare i tifosi nelle coppe, ma i nerazzurri sono attualmente quinti in campionato. Sesti senza la penalizzazione della Juventus e il mancato accesso alla prossima Champions League non sarebbe tollerato in casa Inter. La posizione di Inzaghi, dunque, è sempre in bilico e sotto osservazione da parte della dirigenza. E spunta un primo indizio sul possibile ritorno di Antonio Conte. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe già fatta per l'arrivo in nerazzurro di un fedelissimo di Conte. Si tratta del preparatore dei portieri Gianluca Spinelli.